salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono maomir98 e oggi partiamo con un gameplay di Wack Your Teacher l'inglese è perfetto nel frattempo I am ashamed Long ago, mighty heroes fought an ancient deed Wait, what the f*** is going on? I am ashamed of you How dare you Ouch How dare you How dare you How dare you How dare you I am ashamed of 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 you How dare 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 you